Musica Un cordiale saluto a tutti voi, buongiorno, ben ritrovati carissimi telespettatori di FanoTV Siete sul canale 17 e come tutte le mattine alle 7 e mezzo ci ritroviamo insieme per una decina di minuti per dare uno sfogliato, un'occhiata ai giornali come facciamo ormai da 10 anni a questa parte Allora andiamo subito sul calendario, il santo di oggi lo vediamo insieme Oggi è Santa Pollinare di Ravenna ma che è anche patrono di una località, noi qua vicina, Lucrezia Il patrono di Lucrezia, parliamo di un santo che era originario di Antiochia e giunse però sulla costa adriatica nella seconda metà del secondo secolo e diede origine ad una feconda e florida comunità nella quale erano presenti molti cristiani di origine orientale Il sole è sorto alle 5.44, tramonterà alle 20.45 Allora andiamo a vedere il tempo, il tempo con il sito della protezione civile delle Marche che per oggi prevede cielo sereno poco nuvoloso con temperature in lieve aumento i venti sono di brezza tesa sud occidentali per la giornata di domani, giovedì 21 luglio, cielo poco nuvoloso con aumento della nuvolosità fino a cielo parzialmente nuvoloso nelle ore pomeridiane ci sono probabili possibilità di rovesci isolati brevi nelle zone interne nelle ore più calde della giornata e le temperature saranno in aumento nei valori minimi e anche nei massimi nelle zone dell'entroterra Per quanto riguarda la giornata di venerdì 22 luglio avremo cielo sereno poco nuvoloso con temperature stazionari in lieve aumento i venti sono sempre presenti in queste giornate vedete, venti di brezza tesa a tratti addirittura moderati lieve instabilità nella giornata di domenica con un rapido miglioramento per l'inizio della prossima settimana Allora adesso andiamo subito a vedere i giornali i giornali che oggi pubblicano notizie che passano dal concerto di Francesco Gregori che c'è stato ieri sera in piazza 20 settembre ne parla, lo vedremo tra poco, il Corriere Adriatico fino alla cronaca, un po' di cronaca la vedremo pochissima, forse quasi nulla nel senso che, per esempio, ecco qua la foto notizia, la foto principale del resto del canale in edizione di Pesaro che tratta degli agriturismi agriturismi che, ahimè, purtroppo qualcuno ancora viene gestito un po' col trucco nel senso che ci sono dei risultati clamorosi dai controlli da parte della guardia forestale uno su due di questi agriturismi è stato sanzionato l'illecito più diffuso e anche il più antipatico quello che farebbe più arrabbiare, secondo me è che servono olio e anche vino comprati al supermercato quando in realtà dovrebbero produrlo da soli e quindi queste sono cose che fanno indispettire poi sul giornale di questa mattina potrete leggere il dramma delle molestie sul lavoro poche denunciano perché c'è troppa paura la paura è chiaramente quella di perdere il posto di lavoro però vengono raccontate in due pagine questa mattina sulle storie di chi ha subito e di chi si è ribellata la palpatina può costare addirittura 10.000 euro poi lo vedremo tra un istante soffocati dai debiti ora vivono nell'automobile lui faceva il pizzaiolo lei la commerciante il dramma di una famiglia normale allora andiamo a leggere apriamo subito la pagina di Fano del resto del Carlino probabilmente qualcuno li avrà notati li avrà già visti sono nel parcheggio dell'ex caserma Paolini io li ho incontrati due settimane fa ho parlato un po' con loro e fanno tenerezza davvero queste due persone che ora vivono in questa macchina così come racconta il giornale questa mattina il dramma di una famiglia normale è vero lui faceva il pizzaiolo lei era commerciante straniera ora vivono nell'auto sono soffocati dai debiti Maurizio e Maria o Maria Cesaroni abitavano in via Fossombrone a Cucurano la loro casa è andata all'asta per saldare il mutuo preso per un'attività commerciale che purtroppo è andata male era una pizzeria a Sassonia 3 e poi dopo tutto il resto lo fanno Equitalia lo fanno l'Agenzia delle Entrate insomma lo fanno tutte queste situazioni qua che nel momento in cui entri in questo vortice è la fine hanno due figli uno studia fisica a Bologna l'altro è diplomato al conservatorio scrive ancora il resto del carino che racconta tutta questa storia ma una volta che l'avrete letta ecco cercate di fare mente locale non sfogliate pagine andate su quella successiva cercate di capire se tra le vostre possibilità c'è quella di dare una mano a questa gente a queste persone magari per breve tempo magari dandogli un tetto adesso chiaramente mangiano alla mensa di San Paterniano dormono alla mensa di San Paterniano finché potranno ecco però non possono andare avanti così a lungo poi immaginate con tutto il caldo che sta facendo in questi giorni ma tutto e poi chiudo tutto davvero con molta molta dignità molta dignità questa è una cosa che mi è rimasta molto impressa i rapinatori avevano le armi occultate nei sedili ha creato molto scalpore la notizia nei giorni scorsi di quell'aggressione di quella rapina violenta che ha subito questa coppia di fanesi emergono particolari sconcertanti nelle indagini della polizia nella BMW dei banditi sono stati ritrovati dei nascondigli ricavati dagli schienali e ora chiaramente ci si domanda puntavano alle armi sapevano che c'erano le armi a che cosa servivano e qual era la destinazione insomma sono tutti interrogativi davvero inquietanti l'urlo della politica Ragonesi fratelli d'Italia invoca la consulta della sicurezza mentre Paolini della Lega Nord chiede pene certe espropri della 14 Grillini ripensateci e poi sotto l'incontro Aset la CGL sia la fusione e rilancia su Marche Multiservizi al mare a Gimarra i sottopassi diventano due il progetto potrebbe trovare una soluzione l'annoso problema dell'accesso alla spiaggia e poi ancora gli appuntamenti di questa estate con la caccia la band con l'X Factor da domani a sabato torna il Festival Rock in Cavea quella del Lido di Fano da domani a sabato prossimo dalle 20.30 alla mezzanotte e mezzo circa ogni sera ci saranno tre gruppi musicali che si esibiranno per un'ora ciascuno al Lido e sarà un momento anche per ascoltare della musica di casa nostra musica nostrana poi dall'Arzilla al Lido c'è anche un altro revival quello degli anni 70 quella dei figli dei fiori il potere dei fiori anche nei cocktail torna nel fine settimana la non edizione della manifestazione Fano Love Party dove chiaramente si potrà ascoltare musica che oggi non si fa più purtroppo oggi i cantanti cantano anzi parlano sulla musica ma non cantano invece quella volta negli anni 70 c'era musica e musica intramontabile e speriamo che come tornano di moda i vestiti possano tornare di moda anche le canzoni quindi si torni a fare musica di quel genere a proposito di musica ecco qua la foto e passiamo al Corriere Adriatico la foto grande della piazza di Fano piazza 20 Settembre ieri sera ieri sera c'è stato il concerto di Francesco De Gregori che però canta ma non entusiasma che canta però non entusiasma grandi hit ricordando anche Bob Dylan e gli anni 60 in piazza 20 Settembre l'atteso concerto del principe dei cantautori con una carrellata di successi e il resto il Corriere Adriatico Massimo Foghetti che ha assistito al concerto snorciano un po' anche di dati parla di flop del pubblico non tornano i conti gli organizzatori si aspettavano 2000 persone in realtà erano più o meno 1500 forse ha influito la tappa troppo ravvicinata l'esibizione di Civitanova Marche che probabilmente sì in effetti ha tenuto a casa tutta la parte diciamo sud delle Marche che invece avrebbe potuto partecipare al concerto fanese comunque insomma poi vedremo insomma tra chi dice è stato bello e tra chi insomma così così chi è in maggioranza gli alberghi gli alberghi di Fano quelli ristrutturati non sono scadenti lo dice il presidente Cecchini che replica a Pettinelli il servizio ovunque è stato qualificato non è vero dunque che i nostri alberghi non sono all'altezza del rispondere alle richieste del mercato chi dice questo non dice la verità e deprezza l'offerta ricettiva fanese insorto con determinazione come dicevo il presidente della cooperativa alberghi consorziati di Fano Torrette Marotta Luciano Cecchini contro le affermazioni del direttore della confessa centri fanesi Tiziano Pettinelli che aveva lasciato capire come gli alberghi fanesi insomma fossero un po' datati non fossero all'altezza della della situazione di quello che è un po' in generale la richiesta dei vacanzieri oggi vasca di ricantazione non c'è certezza ma anche il progetto dell'opera ideata per evitare i divetti di balneazione questo è l'altro articolo che troverete sulla pagina di Fano poi anche qui l'intervista oggi sulla pagina 43 di Fano del Corriere Adriatico a Andrea che insieme alla moglie hanno affrontato i rapinatori nella loro casa di Viale Piceno ho pensato a tutelare la mia famiglia adesso racconta Andrea coraggioso senza dubbio perché dice quando ho visto mia moglie in pericolo mi sono gettato per salvarla non mi importava niente dei beni materiali volevo solo tutelare la mia famiglia ma non ricordo in quei momenti cosa sia successo con esattezza e ha suscitato certamente allarme l'assalto di questi due banditi all'abitazione di Viale Piceno lo vedete in questa fotografia con la violenza su questi due coniugi se fosse stata già implementata la videosorveglianza l'auto sarebbe stata segnalata incrocio pericoloso sanzioni con le telecamere il comune di Fano acquista rilevatori automatici per la svolta del Lido nella cavea si suona il rock al Lido il palcoscenico del festival di un festival bambino cioè appena nato due anni alla seconda edizione per tre sere da domani si esibiranno i gruppi emergenti della provincia di Pesaro Urbino in questa fotografia da sinistra Marcheggiani del Bianco Concolino Di Placido e Lucarelli show cooking parliamo di cibo di piatti di brodetto musiche ed eventi per l'edizione 2016 prevista dall'8 all'11 settembre c'è gara anche tra gli chef fanesi apriamo la pagina della Valle del Cesano sulla fusione a 4 ecco tutti i dati incentivi finanziari per 10 anni per i comuni tra Urciano Barchi Piagge e San Giorgio nasce un comune di 5.563 abitanti e chiaramente tutto questo porterà ovviamente a spendere meno soldi per foraggiare la politica Senigallia parcheggia il posto dello stadio ha un'ipotesi al vaglio e che vuole studiare il sindaco Mangialardi che non torna indietro però sulla ZDL e non esclude una soluzione sciocca chiudiamo come abbiamo fatto ieri con i volti i magnifici 11 in questo caso dell'Istituto Cecchi tutti quelli che hanno ottenuto voti con la Lode anche quindi 100 e 100 con la Lode eccola qua le fotografie le trovate sul quotidiano il resto del Carlino oggi in edicola cerchiamo ecco senza far torto a nessuno una carrellata veloce veloce complimenti a tutti noi ci fermiamo qui grazie per averci seguito l'augurio di trascorrere una piacevole serata una giornata a Fano noi ci vediamo invece stasera alle 20.30 con il telegiornale Occhio la Notizia arrivederci arrivederci a Fano a Fano